Il 2021 ha rappresentato la svolta nella ricostruzione privata a Teramo dopo i terremoti del centro Italia nel 2016 e nel 2017. Al 31 dicembre 2020 erano in totale 133 le pratiche concluse, nel 2021 invece ne sono state concluse 207, il 155% in più. Anche i decreti emessi sono aumentati con un incremento del 151%. Giro di Bo a Teramo, ha commentato il sindaco Gian Guido d'Alberto, secondo cui il merito di questa accelerazione è della semplificazione burocratica introdotta dalle ordinanze firmate dal commissario straordinario Giovanni Legnini, così come dal lavoro dell'ufficio speciale ricostruzione e dell'ufficio sisma del comune di Teramo. Nell'ultimo anno, ha detto il primo cittadino, è stato potenziato il capitale umano, fondamentale per far funzionare la macchina amministrativa. In particolare per gli interventi le domande presentate sono state 547, di cui 422 per i danni lievi e 125 per danni gravi. Degli oltre 190 milioni di euro stanziati per il cratere abruzzese ne sono arrivati circa 77, ovvero poco oltre il 40% del totale. Somme ingenti rispetto al peso in termini di danni che ci è stato assegnato all'interno del cratere, ha concluso d'Alberto, che evidentemente non rispecchia quella che è la realtà, le parole del sindaco.